intervista in giro questa è la nostra casa del futuro lui sta uno di noi uno di noi non ci lasceremo mai ragazzi è un video, salutate salutate non, facciamo la fotografia Marilu, allora senza parole senza parole second monster ciao Peppe, sentiretti a fire anche qui dobbiamo solo cercare di calcare ciao, benvenuto sul canale Flyer buongiorno